Buongiorno a tutti, eccoci qua alla terza lezione del nostro corso sull'utilizzo di C Sharp, ancora dal punto di vista dell'applicazione console. Quindi vediamo oggi di risolvere un altro semplice problema, servisciamo col tempo anche due, due semplici algoritmi, e di provarli sul nostro ambiente di sviluppo. Quindi iniziamo a introdurre il primo problema, vediamo trovare poi l'algoritmo risolutivo e poi passare ancora una volta all'ambiente di sviluppo, quindi al C Sharp per andare a risolverlo da un punto di vista appunto del computer, dell'implementazione. Quindi il problema che vogliamo risolvere oggi, prendiamo il primo, è quello di ad esempio di inserire due valori, due numeri, ancora qua per comodità supponiamo di leggere dei numeri interi, e oggi vogliamo ad esempio, vogliamo indicare in output, quindi ricordo che stiamo parlando di indicare a video, il più grande, il più grande. Ok, quindi ancora una volta, una volta che è noto il testo, la consegna, dobbiamo subito pensare a come risolvere l'algoritmo, pensando a quelli che saranno i valori che ho in ingresso, quindi quali sono gli input di questo problema, e quale sarà invece l'output del problema. Evidentemente in input io mi aspetto di trovare due numeri, quindi avrò bisogno di due variabili per andare a memorizzarli, quindi variabili che posso chiamare ad esempio valore 1, valore 1 e valore 2, devo tipizzarli, devo dire di che tipo sono questi valori, quindi in generale abbiamo detto che per semplicità possiamo mettere dei valori di tipo intero, quindi due interi, che si tradurrò in G sharp con variabili di tipo int, mentre per quanto riguarda l'output cosa avrò? Avrò in uscita a video, quindi con un write line per capirci, uno dei due valori, quindi una scritta, una scritta sarà il mio output. Ok? Bene, andiamo da prima a realizzare velocemente il flowchart, dopodiché faremo ancora una volta per un paio di lezioni e quindi la conversione diciamo di quello che sono i passaggi col flowchart li trasformeremo in codice e poi andremo direttamente sull'ambiente visuale di G sharp per andare a svolgerlo. Quindi, qualsiasi flowchart, schemi a blocchi, iniziano abbiamo detto con un'ellisse di inizio, è necessario avere praticamente degli input su cui lavorare e, buona prassi, avere un output che preceda l'input dove si va a indicare quello che è il dato che io voglio ricevere. Quindi, ad esempio, devo leggere due numeri, avrò un primo output che mi chiede, quindi scriverò uno scrivi, inserisci il primo numero e quindi qua chiudo le giricolette, chiudo la parete in stronda, questo è un roboide e quindi qua metteremo una O per indicare che è un qualcosa che io sto chiedendo all'utente. Per quanto riguarda poi l'input, ancora una volta avrò un roboide, questa volta sarà un leggi, leggi, qua lo chiamo primo numero. Una volta che ho letto il primo numero lo devo assegnare ad una variabile, e quindi l'operazione di assegnazione tramite flowchart si fa con un rettangolo e quindi ci sarà la variabile che nel nostro caso abbiamo chiamato valore1, scriverò valore1, valore1, prende, cioè sto scaricando dentro valore1, quindi da destra verso sinistra, che cosa? Quello che ho letto prima, quindi primo numero. Primo numero. E questa è un'assegnazione. La stessa identica cosa, dovrò farla per quanto riguarda il secondo numero, quindi ancora un output, dove metterò uno, scrivi, inserisci, il secondo numero, virgolette chiusa a tonda, e questo lo posso chiudere qua, è ancora un'operazione di output, scendiamo un attimo, ok con lo schermo, e quindi qua avrò un'operazione, questa volta di input, dove ci sarà un leggi, quindi facciamo un leggi, cosa leggiamo? Niente virgolette, secondo numero, secondo numero, e a questo punto, quello che in input ho ricevuto, lo vado a scaricare dentro una mia variabile, la variabile, quindi abbiamo detto che si chiama valore2, quindi dentro la variabile, questa volta valore2, io vado a mettere quello che mi è stato appena dato, dato da tastiera, quindi scriverò che valore2, valore2, prende, secondo numero, numero, ok, e questa è un'operazione di assegnazione, bene, adesso in che situazione sono? Sono una situazione dove io ho due variabili, lo disegniamo qua, questa è tutta la mia RAM, io ho due variabili, queste due variabili contengono i due numeri inseriti, quindi supponiamo che io abbia digitato 3 da tastiera, e quindi il primo numero sarà 3, il secondo sarà 5, cosa voglio che succeda all'interno del mio algoritmo? Beh, che vengano confrontati questi numeri, e che si capisca che in questo caso il più grande, se questo è praticamente valore, val, valore, 1, e questo è valore, 2, devo dire che in questo caso il 5 è valore 2, è più grande di valore 1, quindi ci serve praticamente un nuovo blocco per quanto riguarda i flowchart, che non abbiamo usato sino adesso, che è il blocco condizionale, la sua struttura è molto semplice, è questa volta un rombo, fatto più o meno correttamente, dove all'interno io vi devo sempre porre una domanda, questa domanda può dare meglio due risposte, una risposta vero, quindi una risposta vero, o risposta sì, o è una, quindi qua mettiamo delle frecce, una che invece è falso, e quindi la risposta sarà no, o potrà essere no, ecco, diciamo così, sul ramo del vero e sul ramo del falso, praticamente posso eseguire delle istruzioni, di qualsiasi genere, input, output, assegnazioni, tutto quello che voglio, il fatto è che debba poi fare in modo che il mio diagramma di flusso continui con un'unica riga, quindi nel nostro caso, qual è la condizione prima di tutto? Beh, la condizione è che devo confrontare i due numeri e vedere qual è il più grande, quindi sarà un confronto del tipo, ma valore 1 è maggiore di valore 2? Il simbolo di maggiore, ricordo, è questo, maggiore, e il simbolo di minore è questo, ok? Quindi, valore 1 è maggiore di valore 2, se è vero questo, cosa devo avere in uscita? Beh, se il valore 1 è più grande di valore 2, qua dovrò avere valore 1, e quindi qua farò un output, con uno scrivi, virgolette, il numero più grande è, e qua mettiamo un segno a posto, virgolette, virgola, e qua dovrò scrivere valore 1, quindi chiuso a tonda, e chiudo questo, è un output, quindi lo facciamo a storto, la stessa identica cosa, dovrà essere scritta qua, soltanto che quello che dovrò dare in output sarà diverso, perché qua scriverò il numero più grande, sto abbreviando perché non ci sta, più grande, e segno a posto, virgolette, virgola, quindi in questo caso vado nel ramo del falso, no, quando c'è valore 1 è più grande di valore 2, no, quindi vuol dire che valore 2 sarà il più grande, quindi qua dovrò scrivere valore 2, e questo, chiuso a tonda, sarà ancora un output, dopo che io ho qualsiasi valore inserito qua, chiudo, o nel ramo del vero o nel ramo del falso, chiudo il mio schema a blocchi, il mio flowchart, e faccio indicare direttamente qua la fine con un end, ok, come faccio adesso a sapere se il mio programma funziona, riduco un attimo, e proviamo l'algoritmo, cercando di dare dei valori, quindi supponiamo di avere qua, valore 1, valore 1, e valore 2, e cerchiamo di far discorrere praticamente l'algoritmo, quindi dall'inizio inserisci il primo valore, leggi il primo numero, quindi inventiamo il valore 1, supponiamo il valore 1 sia 15, continuiamo, e il valore 1 l'ho messo dentro la variabile valore 1, a questo punto inserisci il secondo numero, e questo andrà dentro valore 2, il secondo numero che inserisco è 7, ora andiamo qua in questa condizione, mi chiedo, valore 1 è maggiore di valore 2? beh, valore 1 vale 15, quindi 15 è maggiore di 7? la risposta è sì, allora avrò in output, il numero più grande è valore 1, il numero più grande è 15, e quindi sembra che stia funzionando, rilanciamo il programma, inserisco il primo numero, questa volta metto 5, e leggo qua, il primo numero lo metto dentro valore 1, poi inserisci il secondo numero, supponiamo di avere 12, lo vado a mettere dentro valore 2, ora arrivo alla mia condizione, mi chiedo, valore 1 è maggiore di valore 2? valore 1 vale 5, quindi 5 è più grande di 12? evidentemente no, allora vado nel ramo del falso qua, e vedo che il numero più grande sarà valore 2, quindi il numero più grande sarà pari a 12, quindi il mio programma funziona, l'ultimo caso che dovrei provare, è il caso in cui io ho due valori uguali, quindi supponiamo di dare ad esempio 7 a 1, 7 all'altro, cosa farà? qua si chiederà valore 1 è maggiore di valore 2, no, perché sono uguali, allora andrà nel ramo del falso, e mi scriverà il valore più grande è valore 2, in entrambi i casi, mi darà come risultato 7, quindi il mio programma funziona. Come faccio a questo punto a vedere se funziona su C Sharp? Quindi ricordiamo velocemente, senza fare praticamente tutti i passaggi, che scrivi sarà un write line, write line, un leggi sarà un read line, read line. Poi cosa ho? Ecco, la struttura che dobbiamo un attimo spiegare, perché la novità diciamo di questa puntata, è il blocco condizionale, il blocco condizionale in C Sharp si traduce così, un if, che in inglese vuol dire se, qua dentro ci sarà la mia condizione, poi va a capo, aperta graffa, questo, mettiamolo come commento, sono le istruzioni se è vera la condizione. Se invece la condizione è falsa, ci sarà un altro blocco, che si chiamerà else, che in inglese vuol dire altrimenti, aperta graffa, chiusa graffa, virgolette, queste sono le istruzioni da mettere se non è vera, vera, cioè nel caso in cui la mia condizione praticamente sia falsa, ovvero, qua dentro cosa ci vorrà se è vera? Beh, ci andrà questa istruzione qua. Ok? Viceversa, se la condizione che scrivo qua non è verificata, allora andrò sul ramo del falso e nella nostra situazione era questa istruzione qua, che andrà nel ramo del falso. Manca solo, per completare questa istruzione, andrà a vedere quale è la sintassi del mio confronto. If che cosa? Se che cosa? Beh, questo è esattamente quello che compare qua nel blocco condizionale. Se valore 1 è maggiore di valore 2, allora, se è vero, scrivi il valore più grande è valore 1. Altrimenti, quindi se non è vero che valore 1 è maggiore di valore 2, quindi vuol dire che sarà valore 2 maggiore di valore 1, allora scrivi quest'altra cosa qua. Ecco, a video comparirà valore 2. Quindi, queste due scrivi sono due operazioni, questa e questa sono due operazioni di write line, quindi la situazione dovrà essere ben chiara. Andiamo a aprirci un attimo C Sharp, questo sarà ad esempio possiamo chiamare la lezione 3, quindi come funziona qua, questo è l'ambiente di sviluppo C Sharp, noi apriamo un nuovo progetto, ci accertiamo di essere in Visual C Sharp e in Applicazione Console, diamo qua un nome alla mia applicazione, supponiamo di chiamarlo lezione 3A, ok, potrebbero seguire le lezioni 3B e così via per altri esercizi che riusciamo a fare, diamo invio, apriamo l'ambiente di C, una volta che apriamo C Sharp dobbiamo ricordarci che noi andremo a scrivere tutto all'interno del blocco del main, quindi con uno spazio ci creiamo una riga vuota e allora possiamo iniziare a scrivere il mio programma, il mio programma inizia con un output, quindi con un write line, ricordiamo però che siamo in console, quindi partiamo con un console.write line, con le frecce, vado freccia verso il basso, lo seleziono, apro parenti stonda e lui mi completa la scritta, inserisci il primo valore punto e virgola. Bene, a questo punto cosa devo fare? Torniamo al flowchart, beh qua mi dice che devo leggere il primo numero assegnando una variabile che si chiama valore, ma valore sarà di tipo intero, quindi dichiariamoci una variabile di tipo intero, quindi qua sotto dirò int che sta per intero, la chiamo valore 1. Cosa prende questo valore 1? Quindi, anzi, facciamo così, prima le dichiariamo, facciamo una cosa diversa rispetto alle altre volte, quindi avrò valore 1, ma mi servirà anche valore 2 che dovrò usarle dopo, quindi faccio una prima fase dove le dichiaro tutti e due. Ok, vediamo che C Sharp ci sta dando qua una sottolineatura di tipo verde, quindi non è rossa come quando c'è un errore, ma ci sta in qualche modo, sta catturando la nostra attenzione. In effetti, vedete cosa ci dice? Ci dice la variabile valore 1 è dichiarata ma non è mai stata utilizzata, quindi mi sta dicendo guarda che tu hai creato uno spazio di memoria e l'hai chiamato valore 1, ma in realtà questo valore 1 non lo usi mai, stessa cosa per valore 2. Ok, grazie di averci avvisato, ma adesso dobbiamo ancora completare il nostro percorso, quindi a questo punto dico ma valore 1 che cosa deve prendere? Beh, dovrà prendere quello che leggo da tastiera, ma vi ricordo che C Sharp da tastiera legge solo delle stringhe, io invece ho dei numeri, quindi li devo convertire, allora lavorerò con un convert to int 32 aperta a tonda di che cosa? Di quello che leggo da tastiera, quindi sarà un console punto read line, quindi aperta e chiusa a tonda, virgolette, punto e virgola, quindi ho letto qualcosa da tastiera e l'ho assegnata praticamente a valore 1. attenzione, ora cosa dovrei fare? Dovrei fare la stessa cosa per valore 2, proviamo a fare un'altra cosa, ah vedete un'altra cosa, adesso valore 1 non ha più la sottolineatura in verde perché l'ho usata, mentre valore 2 che non l'ho ancora usata, compare ancora alla sottolineatura verde, quindi una cosa da fare in questo caso potrebbe essere intelligentemente, prendo questa dichiarazione delle due variabili, ctrl x, cioè la taglio, vado su, invio, ctrl v e a questo punto tolgo lo spazio che qua ho creato, perché sto facendo questo? perché da buon informatico adesso faccio un, seleziono le due righe, ctrl c le copio, vado a capo, ctrl v le incollo, non leggerò più, quindi separiamoli un attimo così capiamo che sto facendo, inserisci non più il primo valore ma qua facciamo il secondo valore e non lo assegnerò più a valore 1 ma l'assegno a valore 2, attenzione però non era un errore fare questo, vedete che c sharp non ce lo segnala come un errore, io la posso fare questa istruzione, cosa succede però se faccio valore 1 uguale convert to int? io avevo già fatto questo qua, farlo uguale cosa significa? significa che io sto sovrascrivendo e quindi cancellando il vecchio contenuto di valore 1 per dargli il nuovo, ok? quindi se io qua lo lancio la prima volta inserisci il primo valore e io qua metto 3 poi lancio la seconda volta e qua ci metto 12 evidentemente il mio vecchio valore che era 3 mi è stato smarrito nel senso che ci ho scritto sopra e lui non ha memoria di dire ah ma prima c'era un 3 adesso lo metto da parte per poi ritornare utile no, lui cancella tutto lui contiene un solo valore che sarà l'ultimo che gli assegno e nel nostro caso sarà 12 ok? quindi questo da un punto di vista della sintassi non è sbagliato dal punto di vista della logica invece è molto sbagliato quindi questo mi diventa valore 2 cancelliamo questi esempi vedete che ho messo il doppio slash il doppio slash per dire stavo facendo un commento bene continuiamo il nostro flowchart abbiamo fatto le prime le prime istruzioni di input output quindi col write line con read line ora mi manca il blocco condizionale ma il blocco condizionale l'ho già tradotto qua è un if quindi andiamo qua e scriviamo if aperta tonda qua devo mettere la condizione la condizione è val come scrivo val vedete che lui mi completa subito ma voi valore 1 o valore 2 o val tuple eccetera eccetera noi non sappiamo cos'è una tupla riguardo ai database ma dico no ma a me va bene valore 1 quindi col tasto di tabulazione prendo valore 1 e mi chiedo valore 1 è maggiore quindi la parentesi uncinata con la punta verso destra di val a questo punto potrei fare nuovamente confrontando con se stesso non ha nessun senso quindi invece prendo valore 2 tasto tab per confermare chiudo la brand istonda e vado a capo attenzione qua ci dice che devo aprire una graffa e chiudere una graffa quindi vi ricordo che la parentis graffa è shift alternative graphics parentis quadra ok quindi shift tasto di maiuscolo alternative graphics alt gr è quello che sta a destra della barra spaziatrice tenungo schiacciati questi due poi chiudo la quadra e automaticamente mi da la graffa ok attenzione un'altra cosa molti di voi faranno l'errore di mettere qua il punte virgola questo è uno degli errori più gravi che possiamo commettere perché col punte virgola io sto dicendo guarda che questa istruzione sta terminando in realtà non è vero che termina l'if non termina qua terminerà più avanti quindi mettere qua un punte virgola significa annullare tutto quello che sta sotto e quindi evidentemente creare degli errori quindi attenzione non mettete mai il punte virgola alla fine dell'istruzione if se valore 1 è maggiore di valore 2 cosa devo scrivere? devo scrivere il ramo del vero cioè uno scrivi il numero più grande è valore 1 ah ok quindi devo fare un console punto write line attenzione vedete che sta scrivendo in maniera attaccata in realtà poi come confermo l'istruzione lui da solo me la identa cioè me la porta nell'ordine giusto quindi write line tasto aperta tonda virgolette il numero più grande che hai inserito è e qua ci mettiamo un segno a posto segno a posto ancora con la parentis graffa quindi shift alt gr quadra 0 shift alt gr quadra chiusa virgolette virgola quale sarà l'elemento più grande? beh siamo nel ramo del vero quindi sarà valore 1 quindi selezioniamo valore 1 chiuso a tonda punte virgola vedete che come è finita l'istruzione lui me l'ha spostata all'interno e mi ha identato il mio codice per far capire che questa istruzione qua dove si trova si trova all'interno dalle parentesi graffe e quindi facilmente riesco a capire eventualmente per un errore non di sintassi perché non ne sta segnalando ma per un errore di logica capisco dove devo intervenire manca la parte ancora più giù dell'if quindi andiamoci un po' di spazio cosa manca qua? beh manca la voce dell'else vedete qua abbiamo il ramo del falso che deve essere racchiuso dove c'è il mio else di conseguenza qua lavoreremo come else vedete che diventa blu è ancora una parola chiave del sistema aperta graffa a capo chiusa graffa qua dentro cosa scriverò? beh scriverò praticamente siamo nell'else quindi l'istruzione non è vera e quindi dovrò scrivere valore 2 ok ancora una volta da buon informatico vado e mi copio tutta questa riga ctrl c vado qua in basso la rilascio con ctrl v e invece di scrivere valore 1 scriverò valore 2 mi devo ricordare ancora una cosa se io lancio questo programma funziona ma io non vedrò mai i risultati se volete lo proviamo lanciamo il programma lui mi chiede inserisci il primo valore supponiamo di mettere 5 il secondo valore supponiamo di mettere 6 vedete che automaticamente lui si chiude ma cavolo ma perché non mi hai indicato chi è il valore più grande o valore 1 o valore 2 semplicemente perché il programma non attende nessun mio comando per chiudersi invece io con un console punto read line gli sto dicendo anche se hai finito di calcolare tutto aspetta che io ti dia il comando per chiudere tutto riproviamo a questo punto lo lancio facciamo inserisci il primo valore facciamo 5 il secondo valore 12 il valore più grande che è inserito è 12 ah bene sta funzionando facciamo adesso il contrario facciamo in modo che il primo valore che inserisco è quello più grande quindi il rilancio con F5 o se volete col tasto avvia che c'è qua su mi dice dà il primo valore supponiamo di mettere 55 il secondo valore do 1 evidentemente il valore più grande che è inserito è 55 quindi funziona anche in questo caso l'ultimo caso in cui i due valori siano uguali quindi ancora F5 il primo valore è 5 il secondo è 5 ovviamente il numero più grande che è inserito è 5 poi vedremo magari delle varianti che ci fanno fare un controllo per sapere se i due numeri sono uguali ok? diamo adesso invio quindi il primo esercizio potrebbe essere qua concluso facciamo una variazione al primo esercizio facciamo in modo che questi due numeri corrispondano ad esempio all'età delle persone quindi torniamo qua sulla tavoletta grafica un attimo e l'esercizio voglio che sia completato così io voglio quindi esercizio 2 io voglio che vengano inseriti due nominativi nominativi di due persone e voglio anche che queste due persone abbiano due età ok? io confrontando le età voglio alla fine della fiera sapere il nome della persona più anziana ok? come modifico praticamente il mio flowchart? facciamolo velocemente qua io faccio un inizio posso chiedere ad esempio i due nomi quindi facciamo un leggi anzi facciamo prima un output quindi facciamo uno scrivi scrivi inserisci inserisci primo nome questo primo nome che inserisco dove va a finire? beh andrà questo è un output andrà dentro una variabile quindi ci sarà qua un blocco di input dove ci sarà leggi nominativo uno la devo assegnare ad una variabile questo è un input le variabili supponiamo di chiamare le variabili nome uno e nome due cosa conterrando queste due variabili? delle stringhe? ok ricordiamoci che queste sono di tipo string quindi qua scriverò ad esempio che assegnazione nome uno prende nominativo uno e questa è un'assegnazione la stessa cosa pari pari adesso io non so se questa lavagna me la faccia mi faccia fare il copia e incolla vediamo un po' proviamo a copiare tutto questo ok ctrl c ctrl v ah ok me l'ha duplicato se ora riesco a chiapparmi questo no ok ctrl z per annullare ctrl z ok quindi ctrl c a questo punto scendiamo un po' quindi scendiamo un po' e facciamo qua un ctrl v ok più o meno sta funzionando vediamo se me lo fa spostare me lo fa spostare a pezzi però in questo caso ctrl z faccio più ma ce lo rifarlo a copiarlo che a rifarlo ok quindi da questo io cosa faccio farò un altro output ok un altro input e farò un'altra assegnazione tralascio output e input solo per brevità e scriverò direttamente l'assegnazione l'assegnazione sarà nome 2 nome 2 prende nominativo 2 e questa è un'assegnazione bene a questo punto devo chiedere due età quindi facciamo un output e facciamo scrivi virgolette inserisci età di e qua mettiamo un segno a posto virgolette virgola nome 1 e questo sarà un output chiuso a tonda e qua faremo che cosa? l'età dove la dovrò andare a mettere? prendiamoci qua le mie variabili avrò una variabile la chiamiamo ad esempio età 1 età 2 vi ricordo che conviene nelle variabili andare a evitare sempre caratteri accentati e caratteri speciali perché potrebbero dare problemi nella compilazione ma una volta che ho età 1 età 2 che dati conterranno all'interno? beh conterranno degli interi uno non ha 25 anni e mezzo ok? o ha 25 anni o ne ha 26 quindi in questo caso cosa farò? farò un'operazione di input quindi sarà un leggi lo chiamiamo cosa ne so? età persona 1 cosa ne faccio di questa età persona 1? la devo assegnare alla variabile di tipo intero che ho indicato età 1 prende età persona 1 e questa sarà ancora una istruzione di assegnazione ancora una volta la stessa cosa la devo ripetere anche per la seconda persona quindi dovrei provare a rifare il copia e incolla ma magari mi esercito senza avere la registrazione in corso quindi qua facciamo uno scrivi inserisci inserisci età di segna posto 0 virgolette nome 2 chiusa tonda quindi qua facciamo praticamente il mio questo è abbiamo detto un output qua facciamo il mio input input dove scriviamo ad esempio leggi età persona 2 e questo lo vado poi ad assegnare alla mia variabile che si chiama età 2 età 2 che prende età persona 2 a questo punto cosa devo fare facciamolo velocemente a grandi linee perché si sta dilungando un po' troppo la lezione quindi in questo caso faccio che cosa faccio un blocco condizionale dove vado a confrontare età 1 è maggiore di età 2 e qua mi da origine a un si e un no se si cosa vuol dire che chi è la persona più anziana in questo caso beh è quella associata età 1 quindi scriverò qua un output con uno scrivi virgolette la persona più anziana è segna apposto 0 chi sarà nel caso in cui età 1 è maggiore di età 2 beh età 1 è associata a nome 1 quindi sarà virgola nome 1 quindi chiudo la parentesi e questo sarà un output viceversa quindi prendiamoci un po' di spazio nel caso del ramo del no io avrò la stessa identica cosa del tipo scrivi virgolette la persona più anziana è segna apposto sempre 0 virgolette virgola in questo caso dovrò scrivere nome 2 e a questo punto chiudo la parentesi sonda ancora un output devo ricordarmi che queste due strade si devono in qualche modo ricongiungere perché io ho un'unica strada di uscita che è questa e qua scriverò ad esempio finend eccetera ok non mi resta che scrivere questa cosa su c sharp ma la maggior parte lo riducco un po' di zoom ok sembra lungo e difficile e tortuoso in realtà l'abbiamo già fatto quindi io posso pensare semplicemente di andare a modificare questo quindi sicuramente prima di leggere i valori dovrò leggere dei nomi quindi dichiariamo delle variabili tipo string e la chiamiamo nome 1 virgola virgola nome 2 ok a questo punto cosa faccio beh mi copio e incollo uno di questi ctrl c dopo di che questi li mando giù perché prima leggo i nomi poi leggo l'età quindi qua faccio un ctrl v console fret line inserisci non il primo valore ma il primo nominativo nominativo ho il nome della prima persona quello che volete non devo più convertire niente quindi convert lo tolgo perché perché sto leggendo direttamente una stringa quindi mi va bene quello che mi riporta il console read line e non lo assegnerò più a un intero ma lo assegnerò ad esempio a nome 1 ho letto il primo nome leggiamo anche il secondo nome cosa faccio ctrl c ctrl v inserisci il non più il primo ma il secondo nominativo lo assegno questa volta a nome 2 ora è che ho nome 1 e nome 2 posso leggere l'età del primo e l'età del secondo quindi qua metto inserisci l'età di e qua mettiamo un segno a posto di posizione 0 a cui corrisponde virgola il primo nominativo cioè quello che ho scaricato dentro il nome 1 stessa cosa farò qua non inserisci il secondo valore ma inserisci che cosa l'età di e qua mettiamo un segno a posto 0 chiudiamo la graffa virgola nome le virgolette scusate dopo le virgolette faccio virgola nome 2 ok a questo punto cosa faccio ho già finito perché io faccio il confronto su valore 1 e valore 2 che contengono in questo caso le due età volendo potrei anche far qua cambio il nome delle variabili invece di valore 1 e valore 2 metterò eta 1 eta 2 ma cambia abbastanza poco e cosa faccio? faccio il confronto tra valore 1 e valore 2 se valore 1 è maggiore di valore 2 cosa vuol dire? che l'età della prima persona è più grande di quella della seconda persona quindi non metterò più il numero più grande ma posso scrivere direttamente così la persona più anziana è e qua non metto più valore 1 ma metterò ad esempio nome 1 mentre qua sotto andrò a scrivere la persona più anziana è non più valore 2 ma nome nome 2 proviamolo velocemente se funziona così possiamo anche salutarci quindi inserisci il primo nominativo il primo nominativo è Pippo inserisci il secondo nominativo beh sono io il secondo nominativo l'età di Pippo è Pippo ha 44 anni inserisci l'età di io l'età di io ha 48 anni do invio la persona più anziana è io ok? è vero perché io sono a 48 anni Pippo era a 44 quindi la persona più anziana è io rilanciamolo un attimo facciamo l'effetto il contrario mettiamo che il primo è il più vecchio quindi il primo nominativo sarà lui il secondo nominativo è lei lui ha 99 anni lei ne ha 95 un pelo più giovane quindi in questo caso mi dice guarda che la persona più anziana è lui perché lui ha 99 anni bene ragazzi con questo è tutto chiudiamo praticamente la terza lezione abbiamo visto in questo caso il blocco condizionale che ci traduce con un if e abbiamo visto il ramo del vero dell'if e il ramo del falso dell'if teniamo conto che in tutti i programmi dovrò in qualche modo andare a individuare con l'if delle strade diverse per il mio algoritmo a seconda della condizione anzi del risultato che viene dato da questo test per ora è tutto allora arrivederci alla prossima puntata ciao 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 ciao